Robac arriva sul fondo, la mette in mezzo, la palla sfugge al portiere del Novara, c'è il gol di Diego Laksal, bravo Robac Poi c'è stato l'errore di Marricchi, c'è stato l'errore di Marricchi, però bravo Robac, intraprendente in area di rigore Robac E' andato via, sussulto, guizzo di Robac, errore di Marricchi e gol fa Serra che vede un corridoio per Teo, Teo davanti al portiere, Teo e c'è la deviazione in gol da parte di Emil Robac Ma c'è fuori gioco, fuori gioco sull'asse Teo Robac